Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui nella serie delle avventure con i fan Yeeeeeee Abbiamo raggiunto più di 4000 mi piace nel precedente episodio Pazzesco, sono tantissimi Quindi a quanto pare vi sta piacendo tanto questa serie E ne sono veramente felice Ovviamente lasciate un mi piace e supportate il video condividendolo con i vostri amici Dite ai vostri amici che esiste questa serie Che a loro potrebbe piacere tantissimo E niente, godetevi il video Ehi, ciao Che di te? Ciao Aspetta caldo la voce, parla Ehi, ciao, giochiamo Ok, quella che conto Ehm, non sono premio comunque Cioè, lo ero, me l'hanno fottuto, non mi fai pensare No, come te l'hanno fottuto? Ehi a te? Come, come te l'hanno rubato? Ma tu è una voce di qualche youtuber No, come te l'hanno rubato l'account? Tu hai una voce di un youtuber Youtuber? Youtuber? Io non ho youtube No, no, questo qua sarà un troll sicuro Un troll? Non vuoi giocare? Sono youtuber, tu vero? No Hai la stessa voce di... Fermo, che se non mi imbroglio Ma che... Aspetta? Ho la voce di qualcuno Hai la voce di un youtuber, fermo Io sono fermo Io sono fermo Io sono fermo Ehm, non mi fermo No, tu sei uno youtuber secondo me Come fai se... Cioè, io non... Non c'ho youtube Guardo qualche... Guardo stepni Certe volte, basta Hai una voce identica alla youtuber No Ma vuoi giocare a qualcosa? Sì Hai una voce identica alla... Ma aspetta che non viene... Parla Come? In che senso? Parla Eh, sto parlando In che senso? Ma... Io sono un normale ragazzo Cioè, vorrei giocare con te Non è che sia Ermac Zain Erma chi? Ermac Zain Non so chi sia What? Ah, spero non sia un troll Eh? Spero non sia un troll Un troll? Ma vabbè Io volevo solo giocare Quindi vorresti che tu, amico di Kenna Fai anche tu un troll No Io vorrei solo giocare Se scopro che sono io E' un troll Non è che mi cazzo Anzi Sono contento Però Scommetto che sei sempre Vero? Eh, sì Perfetto per un troll Come perfetto? Ma ti piacciono i troll? Non è che mi stai trollando Vero? No, no Ma non è che tu stai trollando Non è che tu mi stai trollando Io? Aspetta Dove sei qui? Voglio vederti Vediamo Non ti caccia una nantacinque Dove sei? Quanto anni hai? Ah, capati Eh, ne ho 16 Io ho 14 Ah Ah Però anche tu c'hai la skin da SP Non è che mi stai trollando Mi hanno fottuto l'accanto Ma perché te l'hanno fottuto? E che cazzo ne so io? Mi sono trovato con Camerbasso Il D-Mille Poi l'ho fatto ripesta Alla moglie Anche un bordello Quindi non mi stai trollando Vero? No, se non mi sei tu che stai trollando Mi Che sei un youtuber Io? Io vorrei essere un youtuber Ma non lo sono No No, ma tu hai la stessa No, vabbè Aspetta, dove sei? Dove sei? Che non sono bravo nel pvp Dove sei? Perfetto per un troll Non sono bravo nel pvp Come perfetto per un troll? Cosa devo fare? Cosa devo dire? Andiamo, andiamo Dove? Ma Ma stai hackerando? Io? Sì What? Cazzo del tuo cester Sicuramente non c'è C'è un cester 101% Ma Ma sei tu Ciro? Cico? Sì Ahiaia Ma stai hackerando? Ma che cazzo di voce altro? Ma perché stai hackerando? Hacker Oh, da me che dici? Eh? Sì, ma non mi ha ammazzato Tu cuori, tu cuori, tu cuori Tu cuori, tu cuori Ok, tieni, tieni No, se Dove abiti? Io Eh, abito Tipo Vicino a Torino Perfetto per un troll Perché ci metti pure tempo A pensare quanti anni hai Ma vallà Aspetta Ma sta hackerando il server? Eh No Semplicemente Cosa? Cazzo si chi ha L'anti-shit Che fa cagare il cazzo E quindi mi dice Stai usando speed up Eh ma perché sei accovacciato? Che? Perché sei accovacciato? Non sto accovacciato Quello si deve uscire Ah, ancora Eh Ho bisogno del cibo Due cuori Vecce, seguimi Ma tu lo sei già un cestero Sei una youtuber? No Io non ho mai giocato tanto I survival games Come non hai mai giocato I survival games? Hai fatto anche le spy wars Sicuro? No Sì Sicuro Oh senti Mi hai rotti i coglioni Ok Sono uno youtuber Va bene Che youtuber sei? Aiutami però Aiutami Cacchio C'è uno qui vicino Sarà youtuber veramente? Sì 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 Ho due cuori Sono morto E chi sei? Ermac Zain Dai sono io Serio? Sì Serio? Serio La mia voce è questa L'è riconosciuta È quella Ma l'ho detto io Era sicuramente Ermac Zain No era lui Era Ma che cacchio Vuolevi farmi il troll Vero? No no Non era un troll Semplicemente Ma facciamo una partita assieme Allora? Sì sì Giochiamo insieme Se vuoi Ma cioè Perché continui a registrare Non capire Non vuoi fare un Un video Con me? E detto? Non vuoi fare un video Con me? Certo Ma tu Se stessi Se vero Ermac Non credo Faresti veramente Dei video Con un altro Di 300 iscritti Perché? E io voglio fare Io voglio fare Un video con te Non posso? Non ci posso mai Credere In che senso? Che vuoi fare Un video con te? Sì Dai Entriamo in alto Survival Games Ti sto continuando a registrare Ehi Serio? Sì 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 Io non ci posso Credere Oh ma la finisci Di dire Non ci puoi Credere Ma che cacchio Mamma mia Vabbè È la tua voce Sintesisativa C'era troppo Eh la prossima volta Inizio così Ciao 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 Cico Non lo capivo Serio Veramente Se devi fare i troll Falli bene Vero Bruno C'è Ma io non sono bravo a fare i troll Aspetta che devo mandare un blocato a mio amico Perché mi devo un attimo invidiare Capito? Ok Che collo sai con chi sto giocando? Con Ermac Zen E se capisco il controllo sul cazzo Però io se lo mando Ma sicuramente inizio a dire Eh ma non è vero Ermac Ovviamente Ah che sacco Non scese Cosa? Ermac Nein E Ah ahah Ti mi mi inizia a dire Sissississississississississississississississississi Ah ahahah Non se lo aspetta Che io sono qui dentro Ci sto giocando Eh adesso vedi Sì No Parlando Ecco Ah ahah Con un applauso Harry Youtube certo ha scritto certo certo Cico non ci credono ma è normale ci credo fidati ah copri in tempo intelligente allora sono di fianco a te io non vado al centro andiamo dietro e prendiamo tutte le ceste aspetta che mi ha risposto quel ragazzola che ci ha mandato il messaggio ok in un troll ha scritto in un troll aspetta dopo ci domando è un'avventura con i fan cioè se io vado ah beh ci sto vicino vieni 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 ok andiamo qua ci stanno due o tre ceste sì ciao mi chiamo Carletto lo vedi il mio nome? sì inquadrami guarda gira vedi il mio nome? sì lo vedo così si chiama il mio canale eh perché spammi ah perché spammi no no la taglio questa parte non ti preoccupare la taglio e se non la tagliassi? e se non la tagliassi mi li troverei con molti più iscritti e yes sarebbe una bella cosa non spammare no non lo faccio ma danno impossibile che gli escono un video dove lo spammi sono uno scemo non dico che sei scemo però ma hai dato te lo scemo ma sai no no comunque non ho una spada eh eh io che cacchio e io che devo dire che oh c'è una eh non ho una spada però io tengo una scelta solo ok sacrifico mi sacrifico per te no no non ti sacrificare vuole giocare con te ah mi cazzo se vuole sacrificare per te dammi un'arma un'arma la tengo dove sei? qui qui tieni la roda. Ok. Prego a big youtube. Oh bravo. Figo rubarsi le kill bro. Come? Ti ho salvato la vita. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni sta roba. Mi sei avuto un bidone della spazzatura, vero? E il cazzo di risata. Ti sto trollando. Wow, non avevo capito come stai trovando. Wow. Il problema è che questo non è neanche un troll, ma tu continui a ripetere che è un troll. E questo è il bello. Cosa? Dico, questo non è un troll. E questa è una figata. Vabbè, all'inizio ho fatto finta di niente, ma non è un troll questo. Eh, lo so, ma quindi lo fai uscire ancora? Sì, è una nuova serie in cui gioco con gli iscritti. Ma anche la gente... Sì, veramente. Cacchio. Wow, figo. Io voglio bene i miei iscritti. Io voglio bene i miei iscritti. Sarò uno dei primi, quindi? No. La serie è già iniziata da un bel po'. Vedi che non guardi i miei video. Cosa è? La serie è iniziata da un bel po'. Poi sono da poco tornato dalle vacanze, sti cazzo. No, ok. Nessun problema. No, no, è già iniziata da un bel po'. Tu saresti il terzo, diciamo. Sarai il terzo. Sono un carletto con la skin di ale. Sola c'è uno, a destra. C'è un team. C'è uno. E a sinistra c'è uno. Ammazziamo prima questo. Non lo fanno io, non lo fanno io, non lo fanno io. Dove sei? Dove sei? Dove sei? No, vieni, vieni. È un film di merda. Ah, ok. Non morire, non morire. Vieni qua. Che cosa? Mi sono andato a morire. Aspettate. Arrivo, arrivo. Ma dove sei? Ah, tu che hai la rodo. Tu che hai la rodo. Rodalo, rodalo. Ma dove? Ah, questo? Ok, si è buttato. Vieni, vieni. Ok. Però non c'è... Non c'è una gherbola in casa, ti serve. Ah, no, no, ti dimentico per te. Ah, sta scappando. Ah, ma poi trovi la sua ArenaCraft, è figo. Cosa? Ma non è un troll questo? Che cazzo? Vabbè, ormai mi imbroglio. La serie va di scritto su ArenaCraft. Ti fa anche chiedermi. Ti fa anche carla su MSG. Mi ha fatto un account. Mi ha fatto un secondo. Quanto vorrebbe spammare il mio canale? Ma io non lo faccio, perché sono un bravo iscritto. Bravo, devi essere bravo. Devi... Anche se vorrei. Devi frenare all'attenzione di iscritti, spazio. Devi frenare la tentazione di spammare. Si cresce di iscritti facendo video belli, non spammando. Sì, ma se hai 300 iscritti e la maggior parte sono inattivi, poi ti salgono le bestemmie, no? No, niente bestemmie. No, 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 sono scema. No, 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 no. Tutti hanno gli iscritti inattivi. Il carale di un amico mi sei stato, è stato giusto per bestemmi. Mi l'avevo bestemmiato io. Eh, ho qualcosa in ferro che ti posso dare, se vuoi. Aspetta che mi devo villare questo cobra. Oh, è bravo. Wow. Ciò che voglio. Aspetta che mi devo villare, ha una rodo. Aspetta, ti spingo. Guarda, bustami. No, spingo. Cioè, puoi parlare anche... Come bustami? Ti ho detto che non devi crescere di iscritti. Cosa? Non devi... E bustami nel senso... Ah. Ok, vai, vai. No, se puoi gustarmi anche di iscritti, sarebbe volentieri. Ok, vai, vai, vai. Ti spingo. Ma fra un po' ti ammazzo io con le bustate. Eh, quindi mi stanno venendo tutti fuori. Vai, vai. Eh, uomo, ma... Ma ti... Ti... Ti armatori in ferro, invece di correre a caso. Tanto quello... L'armatura in ferro, non lo vuoi? Eh, sì, però voglio... Vabbè, dammelo, dammelo. Ah, alleluia. Allora, tieni. Anche un po' di mangiare, se è proprio insisto. Sì, sì, tieni. Tieni, tieni. No, abitone della spazzatura. Però, più o meno, stiamo all'anlande. Oh, ho spaccato la calda pesca. Lol. Guarda, c'è questo. Ammattiamolo. Oh, uno di quei besti pin-up, vai, vai, vai. Pin-up? Questo ha full vita. Qualcosa in Iron Furnino? Eh? Eh... No. Vabbè. Salutate Cicco. Cicco. No, non lo dico, la tentazione, ma non lo dico. Resisti, resisti alla tentazione. Sì, sì, sì. Tanto poi commento sotto nei commenti. Salutate Cicco. È stato un bravo ragazzo con cui ho giocato in questa serie. Yeah! Saluta. Ciao! Eh, niente, ciao, ciao! Ja, 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 ja.